Steph, dove mi hai portato? Perché ci troviamo qui in mezzo al nulla? Beh, lo so, Ferre, siamo stati catapultati in questo posto e dobbiamo cercare di scoprire dove ci troviamo. Però siamo in mezzo al nulla, non ne ho la più pallida idea, Ferre. Oh, salve, ci sapete dire dove siamo? Guardiamo la targa, Ferre, guardiamo la targa. Che magari è utile. È sparita, ha cambiato posto. Ragazzi, come va? Io sono Ferre, Niki. E sono te, perché se ti chiamate, ho che essere... Ovvero, un gioco molto, molto simpatica. In pratica, in cosa consiste? Noi verremo catapultati in un posto casuale del mondo e dovremmo cercare di capire dove ci troviamo. Esattamente, ovviamente non possiamo cercare il punto precisissimo del mondo, dato che sarebbe impossibile. Quindi, noi dobbiamo andare in giro per questa mappa dove veniamo catapultati, cercare di trovare degli indizi, ad esempio, cartelli stradali, targhe delle auto, eccetera, eccetera, eccetera. E diciamo, cercare di andare il più vicino possibile nel punto del mondo corretto. Che poi, secondo me, se si è molto bravi, si può trovare anche il punto corretto. No, lo so. Guarda dove siamo questa volta, Ferre. Eh, ma bisogna essere molto bravi e guardare bene tutto quello che si attuale. Allora, 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 allora. Iniziamo da qui. Non ho la più pallida idea di dove siamo. Però, lì in fondo, io ho notato delle montagne innevate. Ok, quindi è un posto dove comunque c'è freddo, adesso poi ci avviciniamo e ti faccio vedere. Però, da qui, se noi andiamo a zoomare, questa targa è gialla. Ok. Quindi, quantomeno, non siamo in Italia. Ok. Vedi là così. Che bell'indizio. Abbiamo già nell'inizio normale. No, perché riscriviti, la targa gialla ci dovrebbe essere a Londra. Quindi c'è in Inghilterra, in generale. E poi, forse negli Stati Uniti, ma ho il dubbio negli Stati Uniti. Forse soltanto in alcuni stati. Se noi guardiamo questa montagna, a me sembra innevata. Ma sei sicuro che c'è una montagna? E forse sono nuvole. No, no, una montagna c'è, per favore. Sì, ma sono nuvole, secondo me. Non c'è neve? Sì. Vedi che la fauna è molto particolare. La fauna. Fede, non abbiamo... Ma che mi guardi la fauna? E cosa guardo? Ti stavo per dire. La cosa intelligente da fare... Ok, ci sta felinando, eh. Ti lo vorrei che sto seguendo, aiuto, vattene. Allora, senza dire fesseria. La cosa, secondo me, più intelligente da fare è cercare qualche piccolo paesino, o comunque qualche cittadina, in modo tale da poter avere qualche indizio un po' più concreto. Secondo me, io inizio a buttartela lì, è l'Irlanda. Dici? Sì, mi ispira tanto Irlanda. Dovrei googlare per controllare se in Irlanda... Oh, una casa, una casa. Buongiorno. Vedi, questa è la classica casa irlandese, comunque. Ma scusa, ci sono persone che abitano qui in mezzo del niente. Aspetta, posso andare di qui? Fammi un attimo vedere una cosa. No, non mi fa andare, che peccato. Lì c'era un'altra casettina. Perché se tu guardi, qua mi sa che c'è dell'acqua. Quindi mi sa che è un lago con le montagne. Anche secondo me. Voglio andare a vivere in sto posto, è carino. Io però avrei stra paura. Fa un po' paura, eh. Sei un po' isolato, cioè guarda, però non c'è nessun altro. Un po' paura. Piccoletti, non lo so. Guarda, che cos'è questa cosa? Uh, 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 allora. Prima città. Civiltà, non è un paesino, però almeno ci sono un po' di case. Allora, dopo che andiamo in Irlanda, io a questo punto andrei proprio dove c'è un laghetto. Così. C'è del verde, c'è di un laghetto. Proviamoci, dai, andiamo. Canada. Canada. Io te l'ho detto. Anzi, forse non è neanche totalmente Canada. Alaska, Fere. Alaska. Eh, sì, sì. Vabbè. Poteva aver senso. Fere, ma... Ma c'è un tornado. Ma cosa mi hanno fatto di male? Allora, un posto dove ci sono i tornado, ok? È una palude questa. Oh, mamma mia. Ma come dovrei fare? Che postaccio. Vai avanti, lì c'è della civiltà. Forse. Dici? O forse sono solo animali che passano. O pozzanghere. Non lo so. Sono solo pozzanghere, Fere. In questi posti sperduti non usano i cartelli. È vero. Ci fai caso, non ci sono mai cartelli. Non ce n'è. Non c'è nulla. Ma dobbiamo fare questo in incrocio, teoricamente. Sì, eh. Non c'è nulla. Sì, nella precedenza. Vabbè, perché non ci sono strade. È fango. Io, no. Possiamo entrare? No, non possiamo neanche entrare nel villaggetto. Ne ho spenso di vedere dalle finestre, non so. Vai dritto qui. Si può andare dritto qua? Allora. No, dall'altra parte. Abbiamo un'unica freccia. Ok. Dell'Irlanda. Giuro che mi arrabbia tanto. No, Finlandia. Finlandia? Finlandia. Sicura? Sì, boh, non lo so. Allora, spostiamoci. Punto a caso, vero? Tanto è impossibile. È tutto verde. Guarda, vado. Andiamo così. Vado? Andiamo? Però siamo stati più vicini stavolta. Siamo stati più vicini. Russia. Fere in Russia. Eh sì. Allora, dai, ci siamo portati a casa i nostri 1600 punti. Non è male. Voto la location 4 perché a me piace. C'erano questi posti sperduti. I posti sperduti sono difficili. Almeno qui esistono le strade. Quindi ci saranno i cartelli. Guarda, 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 guarda. Subito un camion. Che non ci dice nulla. È un camion da trasporto. Però a me tutto questo dice Stati Uniti. Subito, proprio. Subito. Ho il feeling degli Stati Uniti. Aspetta che superiamo questo camion. Ok, vai. Scusi, scusi. Che faccia a lei? Guardiamo se riusciamo a vedere in mezzo. No, non riusciamo a vederlo. Un po' si vede. Aspetta, 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 aspetta. Finalmente. Finalmente. Agricoltus. Planta de Acopio. No, de Anta dice... No, no, è Planta. Planta. P-L-A-N-T-A. De Acopio. Quindi siamo in un posto spagnolo, Fere. In cui si parla lo spagnolo. Messico. Anche secondo me è Messico. Andiamo di Messico. Ti stavo per dire un Messico-Argentina. Non so perché non l'ho detto. Perché non l'ho detto Argentina? Argentina, ma ispirava un po' di più. Anche a me ispirava anche l'Argentina. Perché non te l'ho detto? Argentina e Brasile mi ispiravano tanto. Anche a me ero in scesa infatti tra Messico-Argentina e Brasile che comunque, diciamo, sono tutti i posti abbastanza civilizzati. Allora, questo round potevamo fare molto meglio perché avevamo degli indizi maggiori. Però comunque, quantomeno abbiamo fatto un buon lavoro. Ci ha dato pochi punti perché avevamo più indizi rispetto a non averne. Esatto, potrebbe essere. Allora, Fere, qua siamo in autunno e fin qui proprio non ci piove. Se l'autunno c'è in tutto il mondo, Fere. Non so se lo sapevi. Eh, beh, quello è uguale. Le stagioni non sono un po' di più. Di nuovo siamo in mezzo a nulla totalmente. Dopo questo round che è da cinque posti e siamo al quarto, proviamo con posti famosi del mondo. Quindi veniamo catapultati, diciamo, tipo Torre Eiffel e tutti questi posti famosi di tutto il mondo. Che dovrebbe essere un po' più semplice. Che dovrebbe essere un po' più semplice. Anche se non è che li conosci tutti però. Esatto, e dobbiamo indovinare. Ovviamente lì bisognerà essere molto più precisi. Fere, questa targa è europea. Come fai a vederla se è censurata? Perché si vede un pochettino il blu. Vedi il blu classico? Sì. Quindi siamo in Europa ed è già il primo indizio. E qua ci sono diverse casette. Aspetta, aspetta, aspetta. Cos'è questo posto? Aspetta che c'è una scritta bufe. Bufe, ma non ci... Guarda il cartello. No, 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 Fere. I due punti sulla U. Ok, sono in poche lingue. Guarda che qua abbiamo indizi davvero, davvero pesanti. Guarda anche il cartello alla sinistra. C'è un cartello. Riusciamo a leggere qua? C'è scritto, vai. Certamente. Certamente che possiamo. Guliasoc, Porcoltec, Friesensultec, Alak. Questo secondo me è tedesco. Io non so distinguere queste lingue. Nien che io. Allora, io mi confondo tra tipo tedesco, poi è simile un po'. Allora, però, siamo in Europa. Ok, io di tedesco non so una parola che una. Quindi è difficilissimo. E neanche io, purtroppo. Vabbè, ma c'è chi un po' lo mastica. Io invece... Allora, siamo nell'Unione Europea. Siamo nell'Unione Europea. Proviamo a Germania. Ne sono praticamente certo. E secondo me, questa qua è la Germania. Eh, queste zone, vedi, con tanto verde. Andiamo. Ungheria. Guarda che 3289 punti, con solo 840 chilometri di errore, è very good. Io te l'ho detto che le lingue di quelle zone non le sono. Beh, dai, è difficile, però comunque non è male. C'è da dire che questi posti sono bellissimi. Ti danno questa sensazione di tranquillità strabella. Noi che siamo sempre abituati alla città. Fede, Fede, qua io sto già investigando. Tu, qui a chiacchierare. Bello, non bello? Stai solo guardando le strisce della spalda. Sono gialle. Quindi Stati Uniti d'America. Fede. Andiamo a cercare qualche cartello. E adesso incontriamo anche questa macchina. Un passante che ci dirà. Ehi, bello, sì, siete in Stati Uniti. Avrà un cartello, ecco dove siamo. Aspetta. Stiamo scherzando che questo è quello che dice i chilometri? Sì, vai. Allora, 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 allora. Allora, Vermilion e Wainwright. Wainwright sarebbe Vermilion. Ma Wainwright non era una cosa di eco? Ti ricordi di Wainwright Table, Fede? Stiamo su, ecco. Dicevo, perché ho già sentito sto nome? Stavo un attimino riflettendo tra me e me. Dicevo, perché ho già sentito il nome di questa città? Pensavo, come puoi spiegare. Ok, vediamo, vediamo, vediamo. In Canada. Fammi vedere se c'erano, tipo... Guarda, un Wainwright. Dai, è Vermilion. È Vermilion. Perché? Se avessi avuto la voglia di andare lì a cercare per tre ore, avremmo azzeccato perfettamente il punto con l'indizio che abbiamo trovato. In ogni caso, 1600 chilometri di errore e 2258 punti non è male, quindi mi sono divertito e metto 5 stelle. Guarda, questo è il recap. Abbiamo fatto un punteggio da schifo. Messico con l'Argentina. Stati Uniti con Canada. Irlanda con Alaska, che è stato l'errore più grosso di tutti. No, questo è l'errore più grosso. Poi, Finlandia con Russia, che anche questo è un grosso errore, secondo me. Assolutamente. E Germania con Ungheria. Un totale di 7538 punti, mi sa, su 30.000 fattibili. Primo posto famoso del mondo totalmente a caso. Allora, buongiorno, buongiorno. Allora, facile. Sono le cascate del Niagara. Cascate del Niagara tutta la vita. Dove stanno di preciso, lo sai? Doverebbe essere tra il Canada e gli Stati Uniti, teoricamente il confine. All'incirca la zona, ma non so il punto. E qua bisogna essere precisi, Fede. Qui ci sono tutti i posti delimitati. Sì, zooma, zooma bene. Dobbiamo trovare un posto dove vedi dell'acqua che confina. Tipo questa, a me sembra perfetto. Sei sicuro? Eh, sembra. Non ci dovrebbe essere scritto, scusami. Non lo so, Fede. Tipo... Cosa te lo scrivono? Le cascate, tu leggi scritto cascate del Niagara. Qui non può essere perché c'è troppa acqua. No, le vedi? Niagara Falls, vedi che avevo ragione. Qua? Sì, Niagara Falls. Dici. Noi siamo qua. Fidati di me. Fidati di me. Ok, ok. Io lo stavo per dire che l'avamo... Fede, ho sbagliato di un chilometro e nove. Eh, però... E abbiamo fatto 4930 punti che sono più di punti fatti in tutto il resto, praticamente. È normale. Benissimo. Ti stavo per dire di andare leggermente più giù perché infatti sembrava un'isoletta in cui... Da cui tu poi vedi le cascate. Benissimo. Però va bene, va bene, va bene. Ok, ok. E il... Oh no. Oh no, i ponti... F... C'è scritto sotto dove siamo. C'è? Street View Panama. Ma dove? Sotto, a destra. Ah. Hanno sbagliato. Grazie. Ne hanno scritto il... E vabbè, ok, sappiamo che è a Panama. Però che posto famoso è, scusami? E vabbè, sarà il ponte, no? Eh, ok, ma... È un canale. Quindi magari qualche canale famoso a Panama. Abbiamo due canali. Distretto di Colón. Ok. Oppure... E qua bisognerà scegliere a caso. No, no, no. È distretto di Colón. È distretto. È questo, Fere. È questo per forza. È secondo me... È qui. Però non mi dà quel feeling. No, perché... Allora, tecnicamente è un ponte che passa sopra un canale. Io non sto vedendo molti... Molti ponti lì. È vero. Cioè, ti vedono. Se tu zoomi molto, vedi anche il ponte. Capito? Questo? No. Ah, sì. Sì, 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 sì. È questo. Vediamo questo. Vado? Vai, provo. Ti prego. 160 metri di errore. Però questo era più semplice perché hanno sbagliato e ti hanno scritto il post. Sì, altrimenti era impossibile. Ma che cosa ha di famoso? È quello che non capisco perché di solito i ponti famosi sono molto belli. Questo l'ho notato, vi che era tutto distrutto. Cioè, mi farebbe anche paura passarci sopra. Vabbè, grazie. Vabbè, vabbè. Un round gratis. Fere, Fere, siamo praticamente a 10.000 punti su 10.000 fattibili. E adesso siamo in un posto bello. Eh, dove mai sarà? Allora, ci possiamo muovere. Ci possiamo muovere. Quindi, teoricamente, quantomeno possiamo scoprire la nazione. Eh, vediamo un pochettino in questo cartello. Riesci a leggere la lingua? Non leggo, non riesco a capire. È troppo, troppo scritto piccolo. Ah, vabbè. No, non riesco a capire. Sembra festa. Deh. Non vorrei dire fesserie, ma mi sembra francese. Anche a me. Mi sembra. Ho avuto lo stesso feeling istantaneamente, Fere. Mi è sembrato di leggere un merci, ma non ne sono sicura. Ho avuto lo stesso feeling subito. Perché è davvero troppo piccolo. Siamo in Francia, Fere. Siamo in Francia. Il discorso è che siamo a Parigi. Ah, torre di fare. Perché stiamo... Ci sono anche stata in questo posto. Ecco perché mi risultava familiare. Perché ci sono stata. Infatti, perché dicevo, secondo me è Parigi. Perché io sto parco l'ho anche visto. Da noi poi possiamo guardare in alto. Quando dobbiamo controllare. Io infatti ti dicevo, prima di guardare i cartelli, ti ho detto, cerca qual è il posto famoso che ci sta facendo vedere. Però se noi da qui non vediamo il mare, ma vediamo le costruzioni, noi in questo momento siamo qua. Dovrebbe, sì. Vai. Vai. 4994 punti. 160 metri. Per la terza volta. 160 metri. Io ho anche le foto in quel parco, lo sai. È molto carina, è molto carina. Appenditela. Ok, questo qua è un ponte famosissimo e se ricordo bene è negli Stati Uniti. Sì, dovrebbe. Io non mi ricordo. Ma tu sapevi che esiste lo street view con le barche? Guarda, vedi. Invece che ha la macchinetta Google, c'è la barchetta Google. Vabbè, in effetti questi posti. Vabbè, in effetti, altrimenti come fai queste foto? Cioè, è normale, normale. Allora, Feria, devi ragionare insieme a me. Da poco abbiamo visto un telefilm su Netflix dove c'era questo ponte ed era Girl Boss, il telefilm. Girl Boss. Girl Boss. Girl Boss. Dobbiamo ricordarci dove viveva. San Francisco, non era a Los Angeles lei? Che noi confondiamo le città, ma era San Francisco secondo me. Sei sicura? Sì, sì. Allora. Allora, io se non ricordo male, lei appunto abitava a San Francisco. Io ricordo che era a Los Angeles, per quello infatti avevo detto Los Angeles, perché ricordavo che lei nominava a Los Angeles. San Francisco è più su. Allora, San Francisco è qua. Ferè. Eh sì che c'è un bel post. Ferè. È questo? Eh sì, 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 è questo. E si chiama Golden Gate Bridge evidentemente, guarda. Golden Gate. È scritto qua, Golden Gate. Noi siamo qui. Vado? Sì, vai. Qui. Più o meno. Vado. Vai. Ok. Un chilometro. No, comunque vedi che è dal punto in cui tu parti. Ah, vabbè, sì. Ricordiamoci questa cosa perché mi hai fatto perdere qualche punto. Vabbè. 4.947 punti. Ci manca l'ultima location e siamo a 19.865 su 20.000 che erano possibili. Allora. Ferè. Allora, fai vedere che posto è. Riusciamo a leggere il nome? No, perché l'hanno censurato. Hotel. Dello. Grande Hotel dell'Opera. Ok, siamo in Francia, no? Arcontemporane mi sembra proprio di sì. Ok. Anche perché poi ci sono, vabbè, ci sono tante bandiere. Ok, quindi è un palazzo famosissimo in Francia. Ed è già un bel indizio. Si vede anche un po' qua da come. Sì, c'è anche la bandiera poi. Capito León. Ok, ma non è che è il palazzo in Francia, cioè a Parigi anche? Allora, se mi ascolti un attimo, c'è scritto Palais de Tolosa, quindi a Tolosa, palazzo di Tolosa ti sta dicendo. Ma dove? Perché non mi ascolti? Sì, ma dove l'hai letto? Ti sto chiedendo. Nell'ingresso! C'è un cartello grande con la casa. Non l'ho visto! Questo cartello c'è scritto Palais de Tolosa. No, possiamo anche entrare. Andiamo a fare... Andiamo! Visita turistica! Qualcosa del genere. Secondo me è Tolosa. Ciao, belli! Come state? Non pensavo... Vedi? Ah, brava. Tolosa! Andiamo a Tolosa e cerchiamo questo capitolo. Che brava! Io due ore che glielo dico e lui coltiva. Allora... Ma aspetta che ti faccio leggere la scritta e porca miseria ti sto dicendo dov'è? Al centro, secondo me. Qui? Centrale. Siamo andati proprio al centro. Sì, sì, sì. O qui? Lì. Vai lì, dai. Qua? Vado? Andiamo? Vai, vai, vai. Andiamo? Oh, 26 metri! Cosa ti ho detto? E tu volevi fare gli altri posti? Te l'avevo detto. Gli indizi li ho visti meglio di te stavolta. Sei stato un po' scarso in questa era. 4.999, Fere! Cioè, guarda che spettacolo! 24.864. C'è da dire che comunque i posti famosi riesci a trovare più indizi. Sì, ma... Perché anche se non li conosci comunque ci sono i cartelli, ci sono... 136 punti di errore, Fere! Siamo andati da Dio, eh! E in questo sì, è un altro difficilissimo. Allora, io alzo le mani su Panama, che se non ci avessero detto per sbaglio che era Panama, avremmo fatto probabilmente 0 punti. Quindi, su quello alzo le mani. Gli altri 4 siamo stati bravi. In ogni caso, lei direi di formarci così per questo video, speriamo che vi sia piaciuto. Se vi piacerà questo video, quindi sondaggio, likes, commenti, visualizzazioni, guarderemo tutto. Però se vi piace questo video, cercheremo di portare almeno una o due volte a settimana dei video particolari che vanno un po' oltre il gameplay. Perché ci piacerebbe fare anche video del genere un po' più tranquilli, senza gameplay, dove semplicemente chiacchieriamo e diciamo stupidaggini come ci piace fare. Esatto! Quindi, ci vediamo così, speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo domani. Bene che se vi è piaciuto, se ci piace, se ci piace, se ci piace, se ci piace, se ne piace, se ne è troppo una volta che ho detto il nostro video, potete considerarvi di iscrivervi per non perdere i video. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Grazie per la visione!